Sto cagnando un'altra marcia, ma all'ultimo mi ci sono fermato, vabbè. È normale sto fatto, però dopo quando arrivi il voit non ci fa più. Il cuscinetto secondo me non è che si è consumato, vuoi si muovere la stessa stanza, no? Vuoi dire? Come si stanno a pagare, no? L'imposto di tosse che stanza. E' un rete, porco dì, tra la ragione franga. Cava, massimo. E' un attimo. Ma ci stanno a dire, si le forze veda dietro? Posi dietro. Quanta era la quarta, rompe, eh? Ma io c'ho la terza della roccia. Posi dietro, ma io la cazzo. Poi c'ho la lavo trafala, che ampegato. Ah, qua c'è la mia, c'ho la città, la ritrovo. Ha andato molto meno di quintali che spesso ieri comunque. Ah, io porto una frega di quant'altro voi, vabbè, una frega. Eh, voi 350, 480, 490, vabbè. Oh, sì. 5 e mezzo, la metto. Alla madonna, ogni mord, tremo uno scotte. Che c'è fa qua, qui c'è? Alla madonna, guarda. Che nervoso, porco dì, guarda. Alla madonna, guarda. Grazie.